Allora forse pure c'è il carnevato Perché è male No, no Viene bene Perché siamo andati, perché devono entrare dentro No, ma per preparare tutte queste cose No, però la spesso, mi ho pensato qua Ma per le mie mie associazioni Sì, sai che sento pure caldo? E lo immaginavo Perché è pure caldo, dici c'è la tua maglietta E c'è la maglietta questa di qua No, io guardo sempre Ogni giorno in mezzo Dava 20 giorni Oh, wow Oh, wow Mi ha andato a fare Perché questo è una maglietta Ma che mi fiuma? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.